amici di milan punto soccer eccoci buongiorno buona domenica rosso nera oggi è una giornata dai un po particolare sappiamo tutti perché ma dobbiamo comunque noi soprattutto qui in questo canale pensare solo ad una cosa al milan sì ma non solo al milan come prima squadra ma anche al milan under 23 vi ricordo come sempre di iscrivervi dunque a questo canale per essere sempre insieme più numerosi e di mettere un like un pollicione a questo video inoltre in descrizione due opzioni importanti la prima far parte del milan under 23 andate a vedere perché siamo il primo canale ne abbiamo fatto una posta in cui parleremo solo del milan under 23 si chiama milan futuro punto soccer potete linkare appunto in descrizione e entrerete iscrivetevi insomma lì si parla solo di questo e poi ancora sotto il sito che vi permette di scaricare gratis tutte le musiche copyright free dunque 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 vi volevo dare alcune date allora nel consiglio della figici federazione italiana gioco calcio di cui abbiamo parlato ieri e abbiamo detto che sta diciamo così facendo si sta proiettando verso una rivoluzione che lo renderà in tutto e per tutto meno potente usiamo questo termine comunque nel consiglio della figici oltre appunto a tutte quelle che sono le informazioni che già sappiamo come la l'iscrizione del milan under 23 sono state date per le prime squadre anche sono state date le date scusate il gioco di parola venerdì 17 agosto la prenderà via il campionato ma in questo caso a scendere in campo sarà la serie b seguita ruota dalla serie a mentre la c tornerà in campo la settimana dopo gli ultimi a scendere in campo per la nuova annata calcistica saranno i protagonisti della serie a a 5 maschile vabbè questo è tanto per dare tutte le indicazioni dunque riassumendo serie a 18 agosto 2024 25 maggio 2025 serie b 17 agosto 2024 9 maggio 2025 invece serie c che ci interessa 25 agosto 2024 27 aprile 2025 per chi ama anche il calcio femminile non riusciamo a seguire tutto anche se a volte diamo i risultati insomma a volte i risultati li diamo sempre però entrare nello specifico veramente complicato 31 agosto 2024 18 maggio 2025 queste sono le date da mettere nella vostra agenda ma siamo ancora alla fase di calcio mercato si sta parlando di fofanà l'abbiamo detto ieri si sta parlando di fofanà che andrà a sostituire in tutto e per tutto probabilmente qualche giocatore che perderemo si parla di ad li ma si parla anche di benasser il milan dunque ha bisogno di mettere a posto questi tasselli non solo il bomber ma proprio anche la difesa ma anche il centrocampo in questo caso diciamo che il nome nuovo gira già da qualche giorno però insomma mi sembra che adesso si inizia a fare un po più seriamente anche noi l'abbiamo messo lì come comunicazione come forma di divulgazione però adesso si inizia a fare un po più seriamente per il centrocampista classe 2001 della fluminense e si tratta di andrè trinidad si tratta di un mediano puro dal fisico potente nonostante non sia particolarmente alto ma con tanta forza e agonismo mi ricorda qualcuno ma ovviamente non lo voglio citare per non bruciare subito il ragazzo perché siamo nell'olimpo avete capito di chi parlo avete capito vabbè allora scrivetelo allora devo dire che nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti con l'entourage come vi dicevo e che è anche con la squadra lui ha un contratto in scadenza al 31 dicembre 2026 il suo costo al momento si aggira sui 15 milioni di euro ma insomma l'interesse di alcuni club della premier su tutti i liverpool potrebbero far salire la valutazione siamo sempre alle solite il milan comunque lo tiene monitorato sempre assieme ad altri profili simili e come lo stesso fofanà ma fofanà e trinidad sono due profili compatibili non sono l'uno che va a sostituire l'altro per me ci vogliono tutti e due e poi anche via fer del fan road io prenderei fofanà e trinidad uno che ha una visione di gioco un po più che propone il gioco e l'altro che fa più legna per intenderci in questo senso dicevamo dell'attacco dell'attacco quindi del bomber sì in effetti siamo sempre lì però c'è un retroscena che dà veramente il là per poter usare quel termine che fondamentalmente non ci piace moltissimo però in questo caso dire clamoroso non è sbagliato perché perché vengono fuori delle notizie dell'anno scorso ma che ti fanno capire come il giocatore abbia come dire effettivamente pensato in tutto e per tutto a come sia veramente la storia soprattutto di milano in questo senso un noto giornalista che non è di certo vicino al milan intervenendo negli studi di tele lombardia parliamo di biasin ha raccontato un retroscena cito testualmente dal dal sito fc inter 1908 punto it che credo sia vicino alla gazzetta dello sport insomma c'è il logo della gazzetta non lo so adesso questo non ve lo so dire ha raccontato un retroscena sull'addio di lucaco all'inter e alla sua voglia di milan dell'attaccante belga accostati i rossoneri e anche al napoli di conte in questo momento e provato che nei giorni dice il giornalista della finale di champions league tra inter e manchester city forse un po prima dice lui l'entourage del giocatore lucaco si era già proposto al milan e in particolare a maldini che era presente quindi che la destinazione sia gradita al giocatore non è un mistero io mi viene in mente balotelli quando disse a striscia la notizia che avrebbe voluto giocare con milan anziché con l'inter il fatto che lucaco fosse così vicino ideologicamente al mondo rosso nero non non era non mi era ignoto e infatti l'anno scorso era davvero tanto vicino poi per mille questioni il primo anno eccetera eccetera insomma la cosa non si è conclusa ma davvero erano così vicini io penso che se non ci sarà un un'accelerazione del napoli nella vendita di osimen il milan potrebbe approfittarne visti buoni rapporti con il celsi e non solo lucaco il mina sta osservando nel celsi poi parleremo anche di questo la cosa si possa chiudere ora il fatto che venga fuori questa cosa ci mette in tutto e per tutto al riparo da quelle che possono essere delle battute ma mi è capitato già di sentire delle battute su lucaco rosso nero io direi che dopo la questione cialanoglu la possiamo chiudere qui la partita no cioè dopo aver accolto cialanoglu come fosse interista da sempre invece solamente una persona che ha visto 500 mila euro in più sul suo contratto invece in questo caso lui si è proposto proprio prima della finale di champions league che ti fa capire quanta voglia di milan c'era in questo senso vedremo se poi avrà fatto pace con ibraimovic visto che il murale se ancora lì e che quell'immagine campeggia e campeggerà a lungo va bene è tutto per questa mattina passate una buona domenica e visto che è una giornata tranquilla se così con il minimo sforzo riuscite ad andare sul canale milan soccer scusatemi milan futuro punto soccer ripeto milan futuro punto soccer canale youtube e vi iscrivete ci aiuterete nel realizzare questa redazione che dovrà seguire un intero campionato di serie c e quindi in effetti bisognerà raddoppiare le forze e allora solo con il vostro consenso e con il vostro supporto che ripeto è comunque gratuito grazie e vedete un pollicione a questo video ciao ciao